Io sono Giuliano Bonato e faccio parte di questa squadra in qualità di giocatore e capitano. Quello che siamo riusciti a realizzare in questi due anni è qualcosa secondo me di grandioso in quanto da un'idea che avevamo io e qualche amico di fare una squadra di basket in Carostina da un sogno è diventata realtà. Infatti da due anni partecipiamo al campionato nazionale di Serie B e cerchiamo con le tante fortune di poter stare in campo in maniera dignitosa. La squadra è composta da quasi tutti i giocatori della zona tranne due cessioni, il nostro Michele Steroni di Sant'Ippolito e di Andrea Gardini che viene da Bologna. Nella nostra squadra fa parte anche una ragazza che si chiama Gemma Rodriguez e nel nostro sport sono ammessi sia maschi che femmini che possono giocare insieme quindi non c'è nessun problema. Anzi forse questa è l'occasione mia come capitano di fare un appello a tutte quelle persone della zona e non solo che vogliono provare questo maniera di più sport noi siamo qua tutti i martedì e giovedì sera dalle 7.30 alle 9.30 per l'allenamento. Sono Piero Bernardi e sono il dirigente del settore basket di Almi Sport Italia mi piace particolarmente perché con questi ragazzi riusciamo a trasmettere anche che siamo alle realtà locali la cultura dello sport la cultura dello sport in modo totalitario e in modo completo. Io sono Michele Steroni, vengo da Sant'Ippolito due anni fa mi ha chiamato questi ragazzi che volevano intraprendere questo progetto del basket in carrozzina mi ha subito appassionato io mi alleno due volte a settimana quindi faccio 80 km andare e 80 km venire due volte a settimana più la partita però purtroppo è la passione questa qua poi se non fai anche sport anche se sei in carrozzina non riesci a muoverti è finita meglio sempre intraprendere piuttosto che chiudersi Mi sono Mirko Acquarelli, NTS Riviera Basket infatti hanno delle carrozzine un po' particolari dunque sono da sport, non sono quelle da passeggio dunque vi invito alle prossime partite in casa a vedere la nostra squadra i nostri ragazzi da divertirsi seguitesi sui social, facebook, instagram e tutti i vari social anche youtube per vari video grazie grazie